Ciao ragazzi e bentornati anche oggi sul canale. Oggi andiamo a parlare di qualcosa che interessa a molti e cioè come proteggere il legno quando viene posto all'esterno delle nostre abitazioni e quindi preda delle intemperie. Questo lo farò in primis avvalendomi di prodotti che utilizzo ormai da più di due anni per cui già usati in molte situazioni, mi avete visto anche utilizzarli in diversi video si tratta dei prodotti della Elephant e andremo a vedere appunto come utilizzarli come viene consigliato utilizzarli e ne vedremo la resa abbastanza ridotta su un pezzettino di legno. E arriviamo al punto 2. Il punto 2 è che farvi vedere la resa su un pezzettino di legno può avere un senso farvelo vedere su un manufatto vero e proprio ne ha decisamente un altro. Per questo motivo ho contattato il Ross del canale Omonimo e con lui abbiamo deciso di realizzare questo doppio video dove io vi parlerò di come viene fatto esattamente il ciclo per proteggere il legno all'esterno e lui ve lo farà vedere praticamente. Quindi non soltanto in una tavoletta di legno come andrò a fare io ma in un manufatto che effettivamente poi starà alle intemperie. Terza cosa che secondo me è molto interessante voglio andare un po' più nello specifico per quanto riguarda gli impregnanti e le finiture della Elephant e per questo ci vuole il mio alter ego. Ciao sono SuperNerd e ti parlerò della resina d'acqua con tecnopolimeri effetto memory form della Elephant. Sigla! Bene, torniamo seri un attimo e parliamo dell'argomento di oggi e cioè la protezione del legno come vi dicevo posto all'esterno. Partiamo dando un paio di nozioni sui termini perché vedo che c'è sempre molta confusione. Come avevo detto nell'altro video di cui trovate il link in descrizione probabilmente la domanda più comune è la differenza tra mordente e impregnante. Il mordente è sostanzialmente un pigmento che penetra nel legno e ne colora le fibre. Stop! L'impregnante penetra anche lui all'interno del legno ma lo protegge quindi la differenza fra i due è basilare. Il mordente lo si colora unicamente l'impregnante oltre a volendo colorarlo lo protegge anche. Seconda cosa importante da capire è da cosa andiamo a proteggere il nostro legno. Beh, la cosa più ovvia che salta in mente è che deve essere impermeabile altrimenti l'acqua farà durare ben poco il nostro manufatto. Seconda cosa sono ad esempio i raggi UV del sole anche loro dannosissimi per i nostri manufatti posti all'esterno. In entrambi i casi questi prodotti che vi farò vedere vi danno un'ottima protezione e eseguendo il ciclo come vi farò vedere io e poi il ROS nel suo video avrete un manufatto quasi eterno. Bene, partiamo con il discorso sulla protezione dai raggi UV. L'impregnante che andremo a vedere ha al suo interno appunto degli elementi che ci proteggono da questo danno come? Semplicemente fornendo uno scudo ai raggi che altrimenti andrebbero a rovinare le nostre fibre. L'altra cosa importante da sapere è che un legno diciamo pigmentato ha sicuramente più resistenza ai raggi UV che non un legno naturale. Si può naturalmente lasciare naturale utilizzando l'impregnante trasparente ma io oggi andrò a utilizzare almeno nella prima mano un impregnante color noce scuro. I colori che solitamente si utilizzano per dare maggiore protezione ai raggi UV sono noce scuro, noce chiaro, venghe, ebano e diversi altri ma diciamo che questi qua sono i principali. Se voi andrete a pigmentare il vostro manufatto con questo tipo di colori avrete una protezione ancora maggiore rispetto appunto ai raggi solari. Le altre protezioni che offre questo impregnante ma che comunque vanno cercate negli impregnanti quando andremo ad utilizzarli sono caratteristiche di antitarlo e antimuffa. Attenzione, entrambe le cose se sono già presenti nel legno su cui andremo a lavorare non vengono eliminate dall'impregnante. Semplicemente l'impregnante evita o meglio riduce il rischio che tarlo e muffa possano attaccare il nostro manufatto. Come ultima cosa ma non per ordine di importanza c'è appunto l'impermeabilità che dobbiamo dare al nostro manufatto. Questo io lo farò con una finitura cerata sempre della Elephant e questa finitura in particolare non è effetto cera ma è veramente cerata cioè c'è della cera all'interno del prodotto per cui poi alla fine faremo anche lì un piccolissimo esperimento per farvi vedere che effettivamente il prodotto diventa praticamente impermeabile. In commercio esistono anche impregnanti similcerati per cui in teoria basterebbe dare anche solo quelli tuttavia io preferisco dare i prodotti singolarmente perché con la poca esperienza che ho ho visto che la resa è migliore. Bene, prima di passare all'esempio pratico sulla tavoletta di legno come vi dicevo faccio un passo indietro e lascio la parola al mio esimio collega per farvi vedere questo piccolissimo esperimento con la resina che appunto si trova all'interno dei prodotti della Elephant. Molto bene giovane pubblico, quindi andremo a vedere adesso le proprietà intrinseche di questa resina ad acqua. Logicamente non è un prodotto che troverete in commercio ma viene disciolta all'interno di impregnanti e finiture della Elephant. Inizialmente vi ho parlato di effetto memory foam per quanto riguarda questa resina ad acqua. È un termine che ho utilizzato impropriamente soltanto per farvi capire il suo funzionamento intrinseco. In verità sarebbe più corretto usare il termine elasticità. Come sapete il legno non è statico ma nel tempo si muove. I legami che l'impregnante crea con le fibre potrebbero cristallizzarsi e rompersi creando un punto dove l'acqua e gli agenti atmosferici vari potrebbero attaccare il nostro manufatto. Grazie a questo prodotto non succede perché deformandosi e seguendo i movimenti del legno non spezzerà appunto questi legami di qui sopra. Qualche giorno fa come possiamo vedere dal filmato prego fai partire ho versato un po' di questo prodotto sopra una lastra di vetro. L'ho lasciato asciugare per circa due giorni e adesso andremo insieme a staccarlo per farvi vedere effettivamente qual è la caratteristica principale di questa resina. Come vedete la resina si è completamente asciugata. adesso grazie ad un cutter andremo a rimuoverla dal vetro e vi farò vedere con questo piccolo esperimento cosa intendevo per effetto memory. Come vedete la resina ha davvero una grande elasticità. L'effetto memory tende a riportarla alla condizione originale ma soprattutto non si spezza e non crea punti deboli nella protezione del nostro manufatto. Bene, finita la dimostrazione quindi adesso passiamo al ciclo vero e proprio da porre in atto. Come prima cosa inizieremo carteggiando il legno su cui dobbiamo andare a lavorare. Si partirà da una grana piuttosto spessa per arrivare a grane più fini. Io di solito oltre la 2,40 non vado tuttavia se voglio proprio una finitura perfetta do ancora una passata con lo scotch bright. Visto che andremo ad usare prodotti all'acqua utilizzeremo un pennello con setole sintetiche. La prima mano che andrò a dare sarà un impregnante all'acqua color noce scuro per aumentare la protezione contro i raggi UV. Ricordatevi sempre di mescolare bene il prodotto prima di stenderlo dopodiché andiamo a darlo seguendo le venature del legno questo per far sì che eventuali accumuli non creino degli inestetismi. Tuttavia, una volta dato, aspettando qualche minuto si può passare un panno per togliere appunto questi eventuali accumuli che si possono formare. Lasciamo passare 24 ore dopodiché controlliamo che non ci sia umidità residua per evitare che si formino delle fastidiose macchie. Dopodiché procediamo a carteggiare il legno con della carta vetrata perché utilizzando prodotti all'acqua alzerà il pelo del legno. A questo punto darò una seconda e terza mano con un impregnante sempre all'acqua ma trasparente anche qui tra una mano e l'altra lasciar passare almeno 24 ore. ultima carteggiata dopodiché si passa alla finitura. Come vi dicevo io ho scelto una finitura sempre all'acqua cerata infatti come vedete è molto densa perché al suo interno è presente appunto della cera vera e propria. Mi raccomando di non dare passate eccessivamente spesse sul manufatto perché oltre a essere inutile creerebbero quel fastidioso effetto spellatura dovuto alla cristallizzazione del prodotto. passate 24 ore andiamo a testare la protezione all'acqua del nostro manufatto ovviamente versandocene un po' sopra come vedete è completamente impermeabile per cui ottimo risultato finale bene io credo di avervi detto quasi tutto il ciclo fatto in questo modo vi permetterà di avere un manufatto tranquillamente posizionabile all'esterno c'è da dire che gli agenti atmosferici e tutto quello che può attaccare il nostro manufatto continueranno a tentare di rovinarlo e alla lunga ci riuscirebbero ci riuscirebbero se noi non interveniamo durante l'anno con dei piccoli lavori chiamiamoli di restauro o rinnovo ancora meglio come farlo? lo potete fare con l'olio restauratore ad esempio della Elephant è un olio che troverete a breve in commercio vi lascio comunque il link al sito qui sotto io ho avuto l'occasione di poterlo provare in anteprima e per quello che ho fatto vi posso assicurare che effettivamente fa quello che promette e cioè rinnova la protezione cerata e i legami dell'effetto memory della resina ad acqua che abbiamo visto rinnovando completamente la protezione sul nostro manufatto quando va dato quest'olio? va dato all'inizio della stagione estiva e di quella invernale per cui basta una passata ed ecco che il nostro manufatto riassume tutte le proprietà che gli abbiamo donato con impregnante e finitura rendendolo ben protetto ultime cose che mi stanno venendo in mente registrando questo video ancora da dirvi sono che vabbè gli impregnanti li troverete sempre molto liquidi per il semplice fatto che appunto devono penetrare nel legno quindi non possono avere un'alta viscosità che questi in particolare sono prodotti all'acqua ma tutto il mercato si sta spostando verso i prodotti all'acqua rispetto ai solventi perché sono molto meno nocivi tuttavia bisogna fare attenzione perché i prodotti all'acqua su determinati tipi di legno fanno apparire quelle macchie fastidiose scure di tannino ad esempio sui rocco castagno e rovere per cui con quei legni lì a parte che in rete potete trovare diverse soluzioni naturali e non per evitare le macchie di tannino però io per adesso l'unica soluzione veramente valida che ho trovato in quei casi è utilizzare i prodotti assolvente bene ragazzi io credo e spero di avervi detto tutto per quanto riguarda il ciclo che io utilizzo per i manufatti da porre all'esterno e sono molto contento della partnership con la Elephant prima di tutto perché i prodotti mi soddisfano e in secondo luogo perché c'è un buon rapporto con loro un'azienda italiana si riescono tranquillamente a contattare e se volete farlo vi lascio tutti i link qui sotto così se avete qualche domanda potete andare a chiedere direttamente a loro a me non rimane che ringraziarvi ricordarvi di andare a vedere il video del Ross così riuscirete a vedere i prodotti all'opera su un manufatto vero e proprio che andrà poi posto all'esterno io vi ricordo di spuntare la campanella pollice in su commentate se avete delle domande e per il resto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao